Come sul campo, anche questa volta hanno fatto meta, una meta tutta loro, più che meritata. Il premio lo sportivo sondriese quest'anno è un premio per due, i gemelli, i protagonisti indiscussi del rugby valtellinese, Luca e Marco Schenatti. Una scelta che rende omaggio a due carriere intrecciate e a due uomini che hanno saputo incarnare il valore del rugby dentro e fuori dal campo. Uno stimolo, andare avanti, un premio alla carriera, sperando che duri ancora qualche anno e un ringraziamento a tutta la società, la famiglia, i compagni di squadra con cui abbiamo attraversato questa avventura e che continuerà. Speriamo che duri ancora qualche anno, anche se l'età comincia a essere un po' avanzata rispetto ai nostri compagni di squadra e niente, contento, grazie. Nel corso della cerimonia assegnate anche due targhe d'onore, Community, Cuore di Valtellina, Comunità Europea dello Sport 2024 e Access Europe, a Gianluca Cristini, già presidente e ora tesoriere della Polisportiva Albosaggia e al campione Matteo Bardea, classe 2003, per le vittorie presenti e ospicio per quelle future. Quello che facciamo noi è un lavoro totalmente di volontariato, per cui ricevere queste gratificazioni fa sempre bene al morale. Sono molto contento di aver ricevuto questo premio e diciamo che sono sacrifici che vengono ripagati.